Pietro il Grande, un titano sulla scena della storia. Zar, imperatore, modernizzatore, uomo di ferro, Pietro il Grande, figura complessa e affascinante, ha lasciato un'impronta indelebile sulla Russia, forgiandola a sua immagine e proiettandola sulla scena internazionale. Nato nel 1672, figlio dello Zar Alessio I, Pietro si trovò a regnare in un'epoca di turbolenti cambiamenti. La sua ambizione era chiara, trasformare la Russia da potenza arretrata e isolata in un impero moderno e militarmente forte. Un'infanzia tumultuosa, la giovinezza di Pietro fu segnata da lotte di potere e intrighi di palazzo. La prematura morte del padre lo catapultò sul trono all'età di soli dieci anni, in un periodo di reggenza contrassegnato dalla rivalità con la sorellastra Sofia. L'ascesa al potere incontrastato avvenne solo nel 1696, dopo la vittoria nella rivolta degli Strelci Y. Un viaggio in Europa, l'inquietudine e il desiderio di innovazione spinsero Pietro a intraprendere un Grand Tour in Europa nel 1697-98. In Olanda, Inghilterra e Austria, egli studiò le arti e le scienze, osservò le moderne tecnologie militari e navali, stringendo alleanze e reclutando esperti per il suo ambizioso progetto di modernizzazione. Riforme a tamburo battente, al suo ritorno, Pietro diede inizio a una serie di riforme radicali che toccarono ogni aspetto della società russa. L'amministrazione statale fu riorganizzata, l'esercito modernizzato, la chiesa ortodossa assoggettata al potere dello zar. Nuove scuole e accademie diffusero la cultura e la scienza occidentale. La fondazione di San Pietroburgo nel 1703, su terre conquistate agli svedesi, divenne il simbolo della nuova Russia. Un regno di conquiste, la politica estera di Pietro fu aggressiva e volta all'espansione territoriale. Le lunghe guerre contro la Svezia e l'impero ottomano permisero alla Russia di ottenere il controllo del Mar Baltico e del Mar Nero, aprendo la strada al commercio internazionale. Un uomo controverso, le riforme di Pietro il Grande incontrarono spesso l'opposizione della nobiltà e del clero, che vedevano minacciati i loro privilegi. La sua natura autoritaria e i metodi brutali usati per imporre la sua volontà gli alienarono il favore di parte della popolazione. Un'eredità duratura, nonostante le controversie, l'eredità di Pietro il Grande è immensa. Egli trasformò la Russia in una potenza moderna e rispettata, gettando le basi per la sua futura ascesa a superpotenza. Il suo impatto sulla cultura, l'economia e la politica russa è ancora oggi evidente. Conclusione, Pietro il Grande rimane una figura di riferimento nella storia russa. Le sue riforme, pur se attuate con durezza, hanno avuto un effetto dirompente sulla società e hanno contribuito a fare della Russia una potenza di primo piano, nello scenario geopolitico internazionale. La sua tenacia, il suo pragmatismo e la sua ambizione visionaria lo rendono un personaggio storico di eccezionale rilevanza.